Silenzio surreale stamattina in via Arno a Teramo dove ieri all'interno del suo appartamento al secondo piano del numero 14 è stata trovata senza vita e in stato avanzato di decomposizione una donna di 77 anni, Franca D'Agostino. L'allarme era stato dato dai vicini che sentivano provenire odori nauseabondi dall'alloggio. La morte della donna presumibilmente risale a dieci giorni fa. Franca D'Agostino viveva con la figlia Sara di 44 anni che non avrebbe compreso o forse ha rifiutato il decesso della mamma. La vicenda si è consumata in un contesto familiare difficile. La 77enne era malata e la figlia la assisteva non avendo un lavoro. Ad arrivare sul posto dopo la segnalazione dei vicini sono stati i vigili del fuoco e il vigile ecologico Vincenzo Calvarese che hanno fatto la triste scoperta. La figlia della donna è uscita di casa quando sono arrivati i vigili, si è recata alla stazione ferroviaria di Teramo e ha raggiunto Giulianova dove è stata rintracciata dai carabinieri ai quali avrebbe detto che stava aspettando che la mamma si svegliasse. Le due donne vivevano praticamente segregate in casa, non aprivano mai le finestre e avevano anche tre gatti. La loro situazione era nota alla ASL essendo la mamma in carico presso il centro di igiene mentale. Per stabilire il giorno esatto e il motivo del decesso di Franca D'Agostino è stata disposta l'autopsia che verrà eseguita dall'anatomo patologo Giuseppe Sciarra. La figlia è stata ricoverata in psichiatria. Grazie. Grazie.